Vai Rosy, vieni un po' più dietro, rilassati completamente, rilassati tanto sei pratica e ormai non dovresti neanche più avere paura, no? Con calma, hai tu rilassati, andiamo piano, partiamo dalla cervicale, facciamo dei piccoli testa, ok, questa è la pausa più lunga dall'ultima volta che ci siamo visti, quindi ci sarà un po' più di accumulo, facciamo con calma, benissimo, piano piano lascia parlando, tu rilassati, perfetto, brava, brava, bravissima, tra poco ci torniamo, hai visto delicato, così, con calma, piano piano, brava, abbandonati, perfetto, bravissima, brava, ok, vai, yeah, ricontrolliamo di qua, morbida morbida, brava, più rilassata che puoi, bravissima, ok, siamo da narrate, pezzetto alla volta, stiamo pagando tutta la cervicale, tanto fino a stasera, no? Sì, sì, abbiamo tempo, e ricontrolliamo l'ultima qua e ci siamo, brava, abbandono tutto, perfetto, già andata, morbida, abbiamo finito, bravissima, adesso passa qua, legiamo le scarpette qui, mi passi in piedi, vieni, 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 notare che è fanatica che lei, capite, non si poggia, va addirittura sulla punta per levare le scarte, vai, che facciamo? Dimelo sempre prima, eh? Vai, vai, ti avviso, test, ferma qua, allora, piano piano, piegati in avanti, poco poco, basta, già fatto, vieni su, blocchettino a sinistra, pancia in su, subina, blocchettino al lato sinistro, bacino, vai, pancettina, subina, pancettina, blocchettino, non iniziamo, eh, fate, facciamo, facciamo il video serio, è impossibile, quindi, vai, facciamo il video come ne vieni, era improponibile farlo professionale, vai, perfetto, video come vieni, vieni, casareccio, questo, ecco, lì tanta roba, eh? Facciamo con calma, sì, 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 tanto sappiamo i punti delicati, possiamo ricaricare in frattempo, è un altro, è un altro, è un altro, è un spensieratezzo, ok, fammi controllare tutto, perfetto, allora, sulla parte lombare, non ti preoccupare, faccio piano piano, ok, allora, non aiutare, sempre rilassata, bravissima, molto bene, ce la fai? Fattibile? Sì, sì, ok, abbandona tutto, morbida, morbida, brava, rilassati del tutto, eh, bravissima, ancora una, rilassa, rilassa, brava, pancia in su, questa era cementata, ok, brava, ci sei? questa l'ho forzata un pochino, no, perché? Per niente, partita da costola, vado, andiamo avanti, sì, lì c'era un bel blocchetto, questo è peggio, vado, rilassati, faccio io con calma, brava, più rilassata che puoi, abbandonatissima, ok, allora, lasciati cadere, abbandona le gambe, brava, bravissima, fatto, ci siamo? Ok, dopo ci torniamo tanto, eh, pure, eh beh, dobbiamo essere sicuri, io sono tranquilla, è sicuro, va bene, andiamo con calma, senti un po' di stretching, l'hai fatto oltre quello, diciamo, da allenamento? Sì, no, un pochino, ok, e poi un po' c'è da fare, allora, giù le gambe e rilassati, morbida, 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 brava, bravissima, adesso invece facciamo la stessa cosa, però piega tutte e due le gambe in appoggio, brava, rilassati, lasciati cadere, morbida, morbida, bravissima, dai, non fa male, ha fatto un misterio, fa scappare tutti i farsi, hai detto, fai vedere col sorriso che non fa male, vabbè, ok, ok, tutto a posto, bene, vado? No, no, che paio che vado, ancora è lunga, e scappi, allora, fai sudando? Sto sudando perché bisogna mantenere, no? Un contenio? Allora, fai fare a me, no, in realtà ho sudato su due tecniche perché c'è una bella rigidità sulla parte lombare, quindi nonostante tu sia super sportiva, lì un po' di fatica l'abbiamo fatta, rilassati, brava, morbida, 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 brava, l'ultima rilassa, abbiamo finito, ci sei? Vado eh, abbandona, 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 buona, basta, questa era bruttina eh, ci sei? Sì! Vuoi descrivere la sensazione? Bellissimo! Allora, testimonianze live, adesso, vediamo il resto, Ok, saliamo un pochettino di livello rispetto a quello che abbiamo fatto da seduto. Lascia fare a me, ci sei? Abbandonatissima, come se stessi dormendo, rilassata, finito, brava. Brava. Pausa, riprendiamoci un attimo. Cioè, non è che è bella la sensazione, però all'inizio fa... Mi sento un attimo, vabbè, però ora mi sento mezzo. Sì, ti fa paura? No, che sì. Sembra che si rompe tutto. Eh, dico, ti sento tutta... Certo. Però ti vuoi dire, non è che dici, sai, forse è la prima volta che lo fai. Rimane comunque, no? No, no, lo so, è sì, certo. Dici, si sente, no? Sì. Un po' di impressione la fa. Eh, lo so. È bello. Ma è bello così, eh? Se no, mi dice sempre, ma uno che non dice, fai un trattamento, c'è alcuni video che vedi il paziente che balsamato, dice, ma non c'è emozione. Sì, lo so. Invece no, giustamente, un po' di paura, ci sta. Rilassa, bravata a me, morbida, morbida. Bravissima, più rilassata che puoi. Abbiamo finito, brava. Fatto, finito. Allora, io dovrei fare una cosa in più qua. No, no, guarda. La facciamo tra poco. La facciamo la prossima volta. Sì. Facciamo un pochino. L'ultimo controllo, aspetta. Può andare. Dopo ti faccio una cosina in più, ma la facciamo da seduti. Adesso, direi che abbiamo fatto abbastanza. Direi che ci siamo. Pancia in giù con calma. Vai. Ok. E facciamo tutto. No, perché è molte cose che è già sfermintate in passato. Braccio lungo i fianchi, testa di lato. Tutto i testi. Tutto bene? Sì. Ok. Allora, piccolo ricontrollino un attimo sulla parte dorsale. Morbida, morbida. Testa fa male. Brava, morbida, morbida. Morbida. No, tutto libera. Fino a qua ci siamo. Altro piccolo controllino. Dorsale alto, rilassati. Brava. Testa di qua, piano piano. Madre mia. Piano piano. Mi saluti a mamma? Sì. Ok, salutiamo mamma. Rilassa, mamma morbida. Brava. Per ora, direi che ci siamo. Testa da che lato preferisci? Dove sei più comoda? Di qua. Di qua? Mi è passato qua. Quanto è ora che si muove? Ok. Poi, piano piano, facciamo solo un controllino sull'osso sagro, piano piano. Poi facciamo una tecnica più soft a pancia in su. Sì, grazie. Piano piano. Allora, dimmi solo se questo ti dà fastidio. Piano no. Piano a qua no. Faccio piano piano. Fattibile? Ok. Piano piano piano. Piano piano. Piano piano. Mi dicevi delle caviglie? Ah sì, che non ho più i legamenti, secondo me. Questo è il tipico della danza. No, perché prendo storte così da ferma. Quando sono stanca sopra il getto. Sì, se sono indeboliti i legamenti, vedi questa è la parte esterna. Che è una cosa simile che ho visto anche in alcuni ballerini della danza sportiva, che è tutt'altro campo. Che però possiamo fare due cosine adesso. La rilassati. Perché è come se dentro sguiscia, capito? Sì, quindi non c'è quel venimento contenitivo del legamento. Rilassati, morbida, morbida. Brava. Bravissima. Manca poco. Ultima di qua. Più rilassata che puoi. Brava, abbandona. Brava. Questa è quella che abbiamo già visto una volta, di capito. Sì, ma poi me ne torno pure noi. C'è lei? No, è quest'altra. Lasciata da me. Abbiamo scoperto di Rossella Brescia a tre caviglie. Morbida, morbida. Gravata da me, eh. Ok. Rilassa. Ecco, ha sentito come ha vittato? Eh sì. Perché squisci. Sì. Sempre. È pericoloso, ovviamente. È però una caratteristica che si crea, che ti aiuta quando balli. Faccio tipo 100 ore levee al giorno. Però ovviamente esatto, porta un po' dopo al rischio. Questo è un lavoro che si fa di contenimento, vedi? Il lavoro di contrasto del rischio che tu hai in inversione, ti dici verso dentro. Invece porti la caviglia verso fuori e vengono all'ordetto. Facciamo meno di altro. E guarda che cosa succede. Quando io vado in inversione qui con il piede, ruota il ginocchio e poi fino all'altra. Guarda. Eh sì, sì, lo sento. Pensa che effetto che fa la caviglia su tutto il corpo. Questa si fa ancora bene. Fatto. Facciamo l'ultima e ci siamo. Morbida, morbida. Abbandonata. Brava. Ci sei? Sì. Sguiscia è un termine tecnico canzellato in ortopedia. La caviglia che sguiscia. Sì. Come si dice? Sì che no. Tecnicamente è lassa si dice, ma in realtà è perché l'articolazione si scivola, slitta. Si scivola, slitta. Esatto. In inglese si dice appunto è uno shift, che è uno scivolamento. Però sguiscia, nell'idea, è carina. Aggiorniamo un po' il vocabolario. Però sì, effettivamente rende l'idea. Ok. Molto bene. Piccolo controllo sulla lombare, va bene? Con calma. Lascia farà a me. Benissimo, rilassati. Lasciati cadere. Questa è quella di prima, eh? Devo solo ricontrollare un attimo. Ce la fai rilassarti il più possibile? Inspira. Fuori l'aria. Bene. Morbida, morbida. Benissimo. Libera al cento per cento. Tiracchia? Tira un pochino? No. No. No, solo un controllo perché adesso che si è rilassata da pure la parte lombare, voglio comunque controllare che sia tutto a posto. Quindi è un semplice passaggio. Ripetitivo. Lascia morbida. Bene. Adesso abbandonati il più possibile. Lascia vedere le gambe. Brava, morbida, morbida. Può andare. Brava. Ok. Ferma così. Morbida, morbida. Ok. Eccola. E basta a mano. Ultima, morbida, morbida. Bravissima. Ci sei? Sì. Emozionante l'anca. Emozionante, bellissima. Solleva la testa. Ok, l'ho fatto. Secondo me ci siamo. Facciamo solo un ultimo controllo. Aspetta un secondino che ti recuperi. Rilassata, tutto bene? Sì, benissimo. Bene. Passa con i piedi di qua. Guardiamo un attimino davanti, dovevi si girare un po' la testa. Ci siamo? Ok, riprendiamoci. Dobbiamo fare solo due cosine di controllo. Morbida, morbida. Allora, un attimo. Adesso, lascia di cadere come se avessi uno stinale. Aggressivo. Cosa tu puoi fare? Non è aggressivo. Lascia di cadere di peso. Di dove? Addosso a me, di peso. Ah, ok. Così, basta. Venuta, come se c'avessi una sedia. Lascia proprio abbandonato il corpo. Brava, perfetto. Non fare nulla. Tengo io qua. Adesso, lascia di cadere rilassatissima. Brava. Ti sposto io. Tu resta sempre a peso morbido. Brava, brava, brava. Morbida, morbida. Abbandona tutto. Perfetto. Rilassati. Finito, morbida. Brava. Perfetto. Buon amore. Ritorniamo. Brava. Un po' più composti. Su me ci siamo. Sì, non chiediamo sempre meglio. Possiamo controllare una cosettina proprio e basta. Ci siamo? Yeah. Tutto bene? Bene. Vai, ti prendiamoci un attimo, salutiamo i nostri amici. Scusate lo show, eh. Ma che? È che quando sono nervosa mi viene da ridere. Però è divertente. Sì, ma noi mica ci abbiamo un protocollo. Siamo spontanei. Siamo in terrore negli occhi. Eppure sono annitti ormai. Eh, lo so, però ogni volta è come la prima volta, capito? Grazie, Rosy. Bravissimo. Grazie. Grazie a tutti.